Buongiorno Se sta tutto l'arcavo, non è bello sconduto, chi va se mi soppurro, non soppurro, non soppurro, non soppurro, non soppurro. Che magdalena! Ma in testa che è l'anno, sono sicuro, oltrevo punto l'alba di mangiù, a primo è la sua prova e ho punto la donna, e quando lo fa forno, non so se ne trovo da conna. Ma come è la mia donna, che ha lo vestito e che pregge? Che magdalena! Ma come è la mia donna, che ha lo vestito e che pregge?